Messaggi salvati, multipli, playlist, statistiche per i canali dei singoli post e qualcosina d'altro in questo aggiornamento Telegram del 30 ottobre 2020. Sono in ritardo, lo so, sono in ritardo, che vi devo dire? Ammetto che non mi ha entusiasmato molto questo aggiornamento, sarà forse per questo, sì, delle novità interessanti, ma niente di esorbitante come ci ha abituato Telegram. Vi invito lo stesso a guardare il video, non solo perché l'ho fatto, ormai cosa facciamo? Non lo guardiamo, ma anche perché dai, due cosine di utili le troviamo sicuramente. C'è anche il mio canale su Telegram, non so se lo sapete, si chiama Chiocciolina Ciraulo, è proprio il nome, anche io mi chiamo Chiocciolina Ciraulo e lì trovate un sacco di cose belle. Se vi piace Telegram, se vi piace YouTube, se vi piace creare contenuti e se vi piace Chiocciolina Ciraulo. Andiamo a vedere sul blog ufficiale di Telegram quali sono le novità e la prima che ci viene mostrata è quella dei messaggi fissati multipli. Andiamo a prendere una chat che ho aperto con me stesso, con un account di prova e guardate un po', vedete che ci sono lì sotto tre messaggi, chiaramente questa cosa è valida nelle chat individuali, nei gruppi, nei canali, è valida in qualsiasi genere di chat, questa qua è una chat, ripeto, che ho con un account finto che ho fatto con l'account vero di Andrea Ciraulo. Guardate cosa succede, se io clicco su messaggio, ho la possibilità di fissare il messaggio e questa non è una novità, posso fissarlo anche per l'interlocutore, certamente, vado a fissarlo, ma in realtà io posso andare, vedete che mi si apre, o meglio mi viene mostrata questa piccola graffetta qui sulla destra del messaggio, ma io questa cosa, a differenza di prima, adesso posso farla anche per più di un messaggio. Quindi vado a fissare un secondo messaggio e noterete una piccola differenza, ovvero questo simbolino qui sulla destra, ma anche, sono molto piccoli, quasi impercettibili, ma sono una finezza, questi due, come posso definirle, queste due stanghette qui sulla sinistra dei messaggi fissati. E andiamo a fissare un terzo messaggio, ops, andiamo a cliccare su fissa, quindi fissa anche per Andrea e fissa, e guardate che carino, adesso le stanghette che vedo sono tre, e i messaggi fissati sono letteralmente tre. Io posso scorrerli andando a cliccare qui sopra, vedete che lui mi va sempre a selezionare il messaggio successivo, quindi immaginate di averne 20.000 di messaggi fissati, lui ci andrà sempre a prendere tutto l'elenco. Chiaramente in questo caso lascio un po' il tempo che trova, li vediamo già tutti, ma immaginiamo di avere una chat piena di messaggi, anche con tutti i messaggi in precedenza, magari un vecchissimo messaggio fissato, magari il primo che abbiamo pubblicato nel nostro canale, ebbene, in questa maniera si va a scorrere a ritroso tutti i messaggi fissati. Potrebbe essere utile, per esempio, per fissare le comunicazioni più importanti del nostro canale Telegram, ma non solo possiamo andare a scorrerli in questa maniera, i messaggi fissati, ma possiamo anche aprirli tutti andando a cliccare su questo tastino qui, questo piccolo tasto con la graffetta, ed ecco che ci si aprirà il menu di tutti i messaggi fissati, solo quelli fissati, che poi andando a cliccare su questi tastini sulla sinistra, possiamo andare a ritrovare all'interno della chat. Certo, in questo caso, ripeto, è tutto quasi scontato, sono quattro messaggi di cui tre fissati, ma immaginatevi la stessa cosa all'interno magari di un grosso canale o di un grosso gruppo. Beh, devo dire che la funzionalità è molto comoda. Perché sono scomparsi adesso? Non li vedo più. Sono stati defissati. Rifissiamoli. Questa è una cosa strana, è perché secondo voi sono stati defissati? Avrò cliccato qualcosa per sbaglio? Riproviamoci. Andiamo qui sulla... Ecco che vediamo anche il messaggio che è stato fissato. Andiamo qui in alto a destra. Ecco qua. E proviamo di nuovo a cliccare sul pulsante per recuperare il messaggio. No, evidentemente avevo cliccato per sbaglio su togli tutti i messaggi, magari un piccolo bug. Sì, effettivamente adesso non sono più scomparsi. Ribadisco, una funzionalità, devo dire, è piuttosto comoda, non ci possiamo lamentare. Andiamo a vedere qual è la funzionalità successiva che viene indicata da Telegram ed è quella delle posizioni in tempo reale migliorate. Ora, devo confessarvi che è una funzionalità che praticamente non ho mai usato e quindi non so benissimo come fossero prima, ma Telegram ci promette che sono state migliorate in due modi. Uno, viene mostrato, vedete, la direzione che ha l'altra persona mentre ci condivide la posizione. E due, possiamo scegliere di ricevere una notifica nel momento in cui l'altra persona si ritrova a una determinata distanza. Adesso, nell'esempio che stiamo vedendo, si sta dicendo a Telegram mandami una notifica quando la persona si troverà a meno di mezzo chilometro da me ed ecco che si riceve la notifica e si vede il messaggio anche qui in basso. Ripeto, è una funzionalità che io non uso particolarmente, ma credo che per chi la usa è una funzionalità effettivamente molto comoda. Andiamo avanti. Molto interessante la funzionalità delle playlist. Mi piace proprio molto, devo dirvi, e ve la faccio vedere aprendo Telegram Desktop. Chiaramente funziona anche dal computer, è la stessa cosa. Prendendo una cartella con delle canzoni a caso, scaricate tutte legalmente, come faccio sempre, in questo caso da Audioblocks, al quale avevo l'abbonamento ai tempi, e vado a importare tutti questi MP3 all'interno della chat, della stessa chat con l'altro utente. In questo caso io sono il vero Andrea Ciraulo e dall'altra parte abbiamo l'utente fittizio. Vado a importarle tutte e guardate che cosa mi propone di raggruppare gli oggetti, ovvero di creare una playlist. Aggiungo anche un commento per farvi vedere, almeno al momento, come viene mostrato questo commento. Per esempio, questa è una playlist. Clicchiamo su invia e guardate, intanto una cosa interessante è che l'altra persona, vediamo se è vero, sì, ve lo confermo, guardate, stanno arrivando tutti gli MP3, ma dall'altro lato non abbiamo ancora ricevuto nulla, se non il commento, e questo è quello che vi volevo far vedere. I commenti sono separati dalla playlist. Quindi aspettiamo che sia caricata tutta la playlist e l'altra persona la vedrà come un unico messaggio. In realtà, attenzione, questo è un dettaglio interessante, non è un unico messaggio, ma sono tanti messaggi che però vengono mostrati come se fosse uno. E quindi vi faccio notare che prima viene inviato il commento, è una cosa da tenere presente, credo che sarà corretta in Telegram, anche questo, secondo me, è una piccola imperfezione, e poi arriva l'intera playlist, che può essere non solo visualizzata come playlist, ma anche ascoltata come playlist, cioè come se fosse un unico messaggio. Questo è molto bello, molto interessante per chi magari ha dei canali audio, musicali, o per chi vuole mandare una serie di audio tutti insieme. Mi piace molto questa funzionalità. Vedete che viene mostrato come un unico messaggio, ma se io voglio andare a eliminare i messaggi, lo devo fare uno per uno, per cui i messaggi, eliminiamolo anche per Andre, via, vedete, i messaggi in realtà sono separati, non sono un unico messaggio, sono tanti, cambia solo il modo in cui vengono mostrati. Per esempio, li posso selezionare, vedete, seleziono questo e questo, e li vado a eliminare, stessa cosa, chiaramente vale da telefono, non cambia nulla. Questi qui li lasciamo invece. Lasciamoli, vediamo se si può aggiungere a una playlist. Modifica? No. No, credo di non potere, almeno in questo momento, aggiungere dei file a una playlist. Quindi, attenzione, si crea solo nel momento in cui, in cui le inviamo la prima volta. Proviamo a inviarne degli altri, che credo che saranno considerati come una playlist separata. Esattamente, vedete? Quindi, attenzione, quando fate le playlist, almeno allo stato attuale delle cose, non mi risulta, o perlomeno non da desktop, che si possano cambiare. Se conoscete qualche trucco per farlo, eventualmente me lo segnalate. Funzionalità playlist. Andiamo a vedere la prossima, dopo un bel colpo di tosse, maledetta tosse, ovvero, quella che forse preferisco, perché trovo molto sfiziosa, le statistiche dei singoli post nei canali. Questa è veramente molto, molto interessante. Tra l'altro, molto bello avere una community di pazzi scatenati, che se io vi chiedo di partecipare agli esperimenti, partecipate sempre in massa. E adesso capiterete di... Capiterete, sì. Ciao, ciao, ciao. Parliamo anche in italiano. Adesso capirete di cosa vi sto parlando. E poi, la cosa bella è che mi dite che vi stupite che io abbia un italiano così buono, così bello. Ma dove? Ma dove? Ma non mi sentite parlare quando mi dite che sono bravo a parlare? Ma chi ascoltate quando vedete i miei video? Statistiche per i post dei canali. Vi faccio vedere. Siamo qui nel mio canale, Chiocciolina Ciraolo, quello lo avete già capito, e vi faccio notare che in tutti i canali credo con più di 50 iscritti, non vorrei sbagliare. Cliccando qui sul titolo, attenzione, non sui tre pallini, perché se cliccate sui tre pallini vedete questa roba che non ci serve a niente, ma cliccando sul titolo del canale ci ritroviamo nelle impostazioni e qui sì, che possiamo cliccare sui tre pallini, questi non quelli di prima, che vi devo dire, confonde un po' la cosa, e qui possiamo andare a vedere le statistiche del canale. Ora, non ci interessano le statistiche del mio canale perché sono, la funzionalità delle statistiche è invariata rispetto a prima, quello che ci interessa è che adesso andando in basso abbiamo la possibilità di vedere le statistiche per il singolo post e guardate l'ultimo post che ho inviato è questo, vi chiedevo di condividere questo stesso post per farvi vedere una cosa e lo avete fatto in massa, quindi grazie che quando vi chiedo di fare le cose siete matti, siete matte e le fate sempre. Infatti, se ora vado nelle statistiche e vado in basso e apro proprio questo post io vedo non solo tutte le informazioni riguardo al post quindi le visualizzazioni, le condivisioni pubbliche, quelle private, ma chi l'ha condiviso privatamente questo post? Perché l'avete fatto? Posso, così come nelle altre statistiche, andare a ampliare o diminuire la visualizzazione della prestazione di quel post guardate qui in basso vedete, si vede anche per orario chiaramente nel momento della pubblicazione le interazioni e le visualizzazioni sono molto alte e poi tendono a diminuire interessante questo nuovo picco alle 18 evidentemente a quest'ora un po' di persone tornano a guardare Telegram e quindi molti vanno a vedere anche i miei post questo è molto utile vedete, molto utile vedere la curva delle interazioni e delle visualizzazioni del post per capire anche l'orario in cui le persone sono più presenti su Telegram su Telegram ma la cosa super interessante di queste statistiche o almeno che a me piace tantissimo è che non solo vedo quanti hanno condiviso il mio post e questo già è bellissimo lo vedevo anche prima non con questo tipo di dettaglio però ma lo vedo andando a vedere addirittura chi e dove ha condiviso il mio post cioè vedo in quali canali pubblici non quelli privati ovviamente non le chat private ma solo i canali pubblici vedo chi ha condiviso il mio progetto e guardate questi e queste sono tutti quelli che hanno accettato il mio invito di condividere quel singolo messaggio quel post e io gli avevo promesso che sarebbero apparsi e apparse dentro il mio video ed eccoli qua eccoli tutti qua fino al primo sono in ordine inverso quindi in questo caso Matteo di The Pixel Chips che vado anche a cliccare se lo merita vince il premio come primo classificato è stato il primo a condividere cliccando vedete che io vado a finire sul suo canale e riesco a vedere non solo il canale ma esattamente il post che è stato condiviso nella posizione originale in cui lo ha lo ha messo Matteo in questo caso ma così tutti gli altri e le altre grazie grazie di cuore per aver accettato questa piccola sfida e vi linkerò nella descrizione di questo video un post sul mio canale telegram dove trovate tutti i link a questi canali ve li linko tutti anzi alla fine del video li andiamo anche a ringraziare uno per uno ve li linko tutti perché vi dico la verità ne ho conosciuti alcuni che non conoscevo e che sono molto belli quindi io stesso sono contento perché ho potuto conoscere e iscrivermi a dei canali che non conoscevo e che trovo super interessanti e mi fa piacere darvi anche questo piccolo elenco in modo che possiate anche voi scoprire e conoscere dei nuovi canali veramente molto molto belli vi linko nella descrizione il link ai loro link e li vado a ringraziare alla fine di questo video uno per uno tra l'altro una piccola nota secondo me interessante anche a questo punto anche condividere dei post di canali per attirare la loro attenzione perché così i canali vedono che noi nel nostro canale abbiamo condiviso il loro post potrebbe essere un modo interessante per instaurare delle relazioni con dei canali che magari stimiamo e apprezziamo torniamo al nostro post blog per parlare di altre piccole cose cose meno interessanti nuove animazioni fluide su android vabbè dai sicuramente interessante ma non così tanto così tanto esaltante direi lato animazioni e interfaccia telegrama è insuperabile rimane insuperabile davvero una fluidità un modo di funzionare che ti fa proprio venire voglia di usarlo davvero ti fa impazzire andiamo avanti abbiamo dei nuovi giochi tipo il jackpot non mi piace molto devo dirvi non mi piace l'idea di passare il jackpot come gioco perché ci sono persone che su queste cose ci perdono letteralmente la vita ci perdono le amicizie ci perdono i parenti quindi il fatto che adesso ci sia la slot machine animata insomma mi piaceva di più la freccetta il dado tutto sommato il pallone da calcio il fatto che ci sia il gioco con la slot machine vi dico la verità non mi fa impazzire non mi fa impazzire a volte telegrama secondo me su alcune delicatezze fa degli scivoloni che si potrebbe risparmiare andiamo avanti emoji animate vabbè ormai è passato Halloween sono in ritardo mi dispiace non a me poi lo sapete che non mi piacciono le emoji animate quindi le disabilito dalle impostazioni e però le emoji di Halloween devo dire dell'isola di Pasqua di Rapanui devo dire che è molto molto bella e quindi questa l'apprezzo anche se non la vedrò mai e basta questo è quanto queste sono le le novità di questo aggiornamento telegram come vi anticipavo non sono così esaltanti ma c'è qualcosa di interessante c'è comunque qualcosa di buono al suo interno io vi ricordo il mio canale chiocciolina ciraolo ma vi ricordo anche che su questo canale youtube trovate delle cose utili per creare contenuti e quindi valutate di iscrivervi con la campanella se quello che faccio vi piace c'è anche la possibilità di supportarmi su Patreon un piccolissimo finanziamento mensile consente di portare avanti il mio progetto di finanziarlo letteralmente e quindi anche di creare contenuti di cui poi fruiranno tutte le persone tutta la comunità e sarebbe insomma proprio un bel gesto da parte vostra e come vi avevo promesso voglio andare a ringraziare uno per uno coloro che hanno accettato l'invito e quindi hanno condiviso il mio il mio post alcuni canali figuratevi sono stati proprio creati ad hoc cioè sono stati creati da zero proprio per fare questa cosa e io sono contento mi piace anche così e quindi grazie a The Pixel Chips grazie a concorsi pubblici Italia Architettura nel dettaglio The Raffman blog studentesco romagnolo Anton Star Wars News il bicchiere vuoto tavla rasa cibo e cucina ansa.it Calabria Calabria Allerta Meteo Luigi Smirne Davide Ballettini updates pensieri soffici offerte di lavoro e formazione Alan Bimbati blog i ragazzi del 99 io viola cianfrusaglia dday.it fast forward i addons che evidentemente lo ha condiviso due volte interessante il fatto che si nota due volte che si vede due volte AM Italy Biblioteca TR Italy News TR Italy Biblioteca offerte del giorno vero viandante pedalo ogni giorno God Monday Bab dice cose passione sceneggiatura leggenda stack leggenda gaming ho perso la connessione facciamola al volo perché ci tengo ci tengo a condividere tutto con voi riproviamo non sembra funzionare la connessione niente di male ve li continuo a leggere no dai riproviamo mettiamo in pausa e riattiviamola ed eccoci qua siamo tornati abbiamo messo in pausa ma ci tenevo mi dispiace o non mi dispiace in realtà perché ci tenevo a ringraziare tutti come ho promesso passione sceneggiatura non mi ricordo dove era arrivato leggenda stack leggenda gaming red dead redemption 2 football glories breaking radio il bugo delle ricette unità pastorale 24 inventarsi un lavoro crescere con tuo figlio annunciate dai tetti funzio gram capre bipedi running in 5 terre le domande di Marzullo dalla parte del topo the gentle drinker artematico vaneggiare con cura podcast ital noleggio produciamo musica mirado di rado news ciclismo alla ricerca dell'anima my digital fin gru pux e fabio calvari group l'avevo detto che ci tenevo grazie vi ricordo che troverete nel canale telegram vi linko direttamente il post tutti i link a questi canali che hanno partecipato con tanta generosità io vi super ringrazio vi do un appuntamento alla prossima e un abbraccio fortissimo aFFFF rock pure vation mi es mi